Ora che David Borrelli ha rotto il silenzio con due post sul suo profilo Facebook, uno dopo l'altro, a poche ore di distanza, molti si chiedono quale sarà il movimento che nascerà a breve, che si occuperà di imprenditori e risparmiatori e al quale l'ormai ex esponente dei Cinque Stelle ha annunciato di aderire. C'è curiosità intorno a questo progetto e ai possibili nomi di altri componenti che affiancheranno l'eurodeputato trevigiano in questa nuova avventura. Avventura che, come ha spiegato il diretto interessato, sta all'origine del divorzio dal movimento di Grillo. Tutte le altre ipotesi dette e scritte sono per l'europarlamentare, solo illazioni. Non ho mai chiesto e dico mai pregato di fare il terzo mandato né di farmi trovare un posto da dirigente a Bruxelles, scrive sui social Borrelli. Nel caso in cui il virgolettato attribuito a Di Maio fosse vero, continua, vorrei che mi si spiegasse quando e in quale occasione avrei fatto tale richiesta. Le meschine illazioni sulla mia vita privata, conclude Borrelli, e sulla mia famiglia, non hanno bisogno di commenti. E nella vicenda dell'europarlamentare, prima con il suo inaspettato addio al movimento, che nel 2008 lo aveva portato ad essere il primo consigliere comunale pentastellato d'Italia, poi con un silenzio assordante ed infine con i posti e la sua verità, tanti nomi che erano stati tirati in ballo, tra questi anche quello di Massimo Colomban, che fa sapere come lui sia solo un imprenditore che non si occupa di politica. Aggiunge poi di non aver mai avuto rapporti personali o d'affari con David Borrelli, smettendo alcune voci circolate nelle ultime ore. Su quanto poi stia accadendo all'interno dei Cinque Stelle, Colomban spiega come in tempi non sospetti avesse già previsto un'implosione del movimento, parlandone anche allo stesso Grillo.